Credo che oggi siamo davvero arrivati forse ai minimi storici della popolarità della Unione Europea, però nonostante questo, nonostante che ormai questo progetto sia uscito allo scoperto, nonostante che sia stato sommerso in qualche modo dai suoi programmi di austerità, dai muri, dalle guerre che direttamente o indirettamente alimenta, eccetera, nonostante che sia chiaro che questo è il progetto politico del grande capitale economico finanziario europeo, eppure ancora facciamo cortei divisi, ancora sono presenti all'interno della sinistra del nostro paese, concezioni differenti, per cui trovo molto importante questo appuntamento, a cui dovranno seguirne tanti altri, e lo richiamo anche a noi che abbiamo cercato di mettere in piedi un comitato promotore di questo piano B per l'Europa, credo che dobbiamo raccogliere l'invito a moltiplicare le occasioni di riflessioni, di dibattito su questi problemi, proprio perché è ancora grande forse la confusione sotto il cielo, all'interno della sinistra, quantomeno in Europa. Ecco, non c'è ombra di dubbio che questo oggi è il terreno proficuo sul quale la sinistra radicale antagonista deve poter costruire una proposta politica alternativa, ma credo che questa alternativa debba fondarsi su alcuni presupposti molto chiari. Il primo che vorrei porre, e che è stato già ampiamente indicato, su cui secondo me non possiamo farci sconti o illusioni, è quello della irriformabilità dell'Unione Europea. E vorrei parlarne con grande chiarezza alla luce anche della storia dell'Europa. La storia dell'Europa che è una storia che secondo me può assumere, addirittura assurgere a categoria interpretativa di quello che davvero è l'Europa. Penso, soprattutto mi riferisco al fatto che, quando diciamo Europa, parliamo della natura, della matrice chiaramente coloniale e imperialistica che ha avuto questo continente, sempre. Pensiamo al fatto che il capitalismo nasce in Europa, e nasce attraverso l'oro e l'argento americano che finiva nelle tasche dei grandi mercanti del nord Europa e delle grandi compagnie commerciali inglesi e olandesi. E quindi è, come dire, il capitale originario. Si è costituito attraverso una conquista coloniale. Ma come non ricordare altri momenti di svolta fondamentali. Penso a una crisi che l'Europa ha attraversato dal 1873 al 96, quando si è aperta la svolta proprio. Il capitalismo si è dato un nuovo corso che era quello non più soltanto coloniale, ma addirittura imperialistico. Penso appunto ai processi che sono stati avviati, l'esportazione di capitale, la fusione del capitale bancario con quello produttivo, la ristrutturazione dei processi produttivi, l'accentramento della produzione nelle mani di trust, cartelli, eccetera. Ecco, in questo contesto non c'è ombra di dubbio. Come dire, l'Europa nasce o si rafforza attraverso la più spregiudicata opera di conquista di popoli, di terre, di risorse. Metà del globo è stato conquistato. Circa un miliardo di esseri umani è stato soggiogato e sottoposto a una sistematica spogliazione che in condizioni di lieve maquillage è rimasto lo stesso. Pensiamo al Congo, il Coltan, i diamanti, i minerali che stanno insanguinando interi continenti. Ecco, io penso che appunto in Europa il capitalismo dove è nato il sistema economico produttivo capitalistico ha dimostrato anche una cosa importante che noi dobbiamo ripeterci sempre. Insomma, il capitalismo è sempre stretto nella morsa tra una forma di autodissoluzione e l'esigenza di dominare e di conquistare. Continuamente, una sorta di tentativo di sfuggire alle crisi che l'attanagliano continuamente. E in questo senso è significativo il fatto che questa, consentitemi il latinismo, questo cupio di solvi si è rivolto anche all'interno della stessa Europa. La colonizzazione avviene anche all'interno della stessa Europa. Tra un'Europa di un tipo e un'Europa di un altro. E infatti, non molti giorni fa, pochi giorni fa, in un articolo del manifesto di un giovane studioso, l'Europa, commento appunto dell'Europa a due velocità, che detto così sembra una bella cosa, ha smascherato apertamente. L'Europa in realtà è uno spazio gerarchico, diceva questo compagno. diceva appunto che si basa proprio sulla divisione del lavoro in Europa tra un nord propulsore, un nord di alta tecnologia, di alta finanza e un sud di mano d'opera a basso costo, eccetera. Insomma, come dire, la colonizzazione attanaglia la stessa Europa, mangia gli stessi figli europei. C'è sempre un sud dentro ad ogni nord, insomma, in qualche misura. E d'altro canto come non ricordare il ruolo che ha avuto l'Europa dell'Est in tutto questo. Mi pare che il compagno spagnolo precedentemente avesse menzionato al ruolo, è vero, che ha avuto l'Europa nel momento in cui cominciava a muovere i primi passi, che è stato il ruolo di essere un avamposto politico e militare degli Stati Uniti America. Forse che oggi la Nato, l'Europa, ha un ruolo autonomo e critico rispetto alla Nato militare, alla Nato economica, certo che no. E come non ricordare il ruolo, insomma, il fatto che l'Europa si sia andata costituendo proprio nel momento in cui crollavano i paesi socialisti all'Est. Come non ricordare che il trattato di Maastricht è stato firmato nel 92 proprio quando si accendeva la guerra nella ex Jugoslavia. Ecco, è importante appunto capire che c'è stata una corsa sfrenata agli investimenti, all'esportazione di capitale, alla delocalizzazione dell'Europa dell'Est. Ed è questo, la legge dello sviluppo ineguale e combinato, che funziona non solo nei confronti degli altri continenti, ma all'interno della stessa Unione Europea. E d'altro canto, appunto, significativo il fatto che un lavoratore polacco costi un terzo di un lavoratore, che so io, italiano, tedesco, il fatto che abbiamo usato una parte, è vero, di questi lavoratori provenienti dall'Est, provenienti dall'area balcanica, provenienti dal sud, del sud, e li abbiamo usati, abbiamo sfruttato il loro lavoro, abbiamo usato le donne, le loro donne per la prostituzione. Pare che ci sia stato qualche cosa come una emigrazione all'interno dell'Europa, da paesi europei, di circa 20 milioni di persone. 20 milioni di persone che abbiamo, in qualche modo, usato, inserito all'interno, è vero, della nostra Unione Europea, appunto, in questa funzione di dumping, di intimidazione, per far abbassare il costo del lavoro, per ridurre le tutele, per, insomma, in qualche modo, aumentando la quantità di mano d'opera, l'effetto è stato, in qualche modo, a catena. Ed è altrettanto significativo che questa Unione Europea finanzi, finanzi largamente, molto generosamente, proprio quei paesi europei desocialistizzati, paesi europei da cui sono partiti di tanti migranti, che sono i più chiusi alle aperture e che pure beneficiano largamente dei fondi europei di coesione, penso all'Ungheria, alla Polonia, alla Romania, alla Slovacchia, alla Repubblica Ceca, che percepiscono decine di miliardi, decine di miliardi, in qualche modo, dall'Unione Europea per fermare, ecco, per fermare, in realtà, la richiesta di asilo, il transito di uomini, donne, bambini e via di questo passo. Eppure, sono proprio questi i paesi dell'Europa dell'Est, dalla Bulgaria, alla Moldova, alla Croazia, l'Albania, la Bulgaria, eccetera, eccetera. Sono proprio questi i paesi che, in base alle fonti della Banca Centrale Europea, sono quelli che hanno maggiormente, si sono maggiormente avvalsi di crediti, di creditori esterni. Il 66% dei debiti di questi paesi dell'Europa dell'Est ha trovato, ha avuto dei creditori esterni, in larga parte le grandi banche, è vero, europee, le quali oggi stanno, peraltro, riducendo, in base a una revisione, evidentemente, dei loro investimenti, l'esposizione verso questi paesi, con rischi, appunto, molto gravi, che vedremo quali saranno. È interessante, appunto, quali sono stati i paesi che maggiormente hanno erogato crediti all'Europa dell'Est? L'Austria. Come non ricordare che l'Austria ha il ruolo che ha avuto l'Austria nella guerra in Jugoslavia? Come non pensare che l'Austria era, appunto, l'impero austro-ungarico che, appunto, ha fatto sì che si dissolvesse la ex-Yugoslavia. Ecco, l'Austria investe qualcosa come il 62% del suo PIL, è vero, nei paesi dell'Est, ma anche la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, e oggi questo enorme flusso di danaro si sta indirizzando altrove. Questi sono i dati, appunto, che escono dalla Banca Centrale Europea, si stanno indirizzando fuori dall'Eurozona. I BRICS non arrivano all'1% di questi finanziamenti, forse perché non godono, appunto, oggi di fiducia degli investitori, a meno che, appunto, non si voglia, a meno che, appunto, non vengano fornite grandi assicurazioni a questi creditori, assicurando manodopera sempre più a basso prezzo, salari sempre più bassi, tasse sempre più basse e via di questo passo. Comunque, non c'è ombra di dubbio, concordo con quello che diceva il compagno spagnolo prima, il problema del debito è problema fondamentale. Il problema del debito è il problema rappresentato dagli Stati che hanno bisogno di danaro e che non possono che rivolgersi al libero mercato, ai tassi decisi dal mercato, come fossero dei privati, con interessi molto elevati e questa spirale del debito che si innesca è una spirale che costringe sempre di più paesi europei a non poter far fronte agli stessi parametri di Maastricht. E questa, appunto, spirale, come un serpente che si morde la coda e che creerà enormi problemi. Potremmo dire che tutto questo è rappresentato dal pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio potrebbe essere, credo, il punto di sintesi delle lotte e anche delle piattaforme politiche, dell'agenda politica che può mettere insieme punti di vista differenti che oggi si agitano all'interno della sinistra. Questo è un punto fondamentale oggi nella lotta contro questa Unione Europea. Ecco, vorrei soltanto soffermarmi su poche cose. La prima, come effetto di questa analisi, che mi sembra estremamente importante. Potremmo dire una sorta di degenerazione, di snaturamento di quello che è il ruolo di un potere pubblico, delle istituzioni pubbliche, dello Stato, ma delle istituzioni pubbliche in generale. L'impotenza, diciamo, della dimensione politica. Non c'è più dimensione politica. Non abbiamo nessuna possibilità effettivamente di influire attraverso le istituzioni, sulle decisioni che vengono prese appunto altrove. Siamo in mano, in quanto possibili potenziali debitori, siamo in mano al libero mercato e alle condizioni che si oppone. E non è possibile che la politica modifichi scelte che appunto vengono assunte altrove. Ecco, lo snaturamento, la degenerazione dei poteri pubblici mi sembra oggi un tema enorme, che va giocato soprattutto sui territori, che va giocato nei comuni, non tanto per partecipare alle elezioni, ma per lavorare contro i tentativi oggi di fare anche dei comuni, luoghi, che servono a trasferire risorse dai bilanci pubblici ai privati, alle banche, alle imprese. Oggi, ahimè, il ruolo, la funzione che hanno le istituzioni pubbliche si riduce ad essere quello di garantire, in qualche modo, la concorrenza e appunto il trasferimento di ciò che appartiene alla collettività, beni, servizi, territori, ai privati. Ecco, è proprio questa la maschera di una democrazia finta, senza politica. È una democrazia senza politica. È un regime senza politica. Che si presenta come democratico, ma è un regime senza possibilità di politica. È il suo paradosso. Ed è un regime senza diritti esigibili. Anche questo è un altro cambiamento, direi, molto importante. Non ci sono più diritti esigibili. Oggi tutto viene sostituito dalla contrattazione pubblico-privata. Pensate che le nuove frontiere del welfare sono giocate non più dal ruolo, dall'intervento del potere pubblico, ma è una concessione che viene da una contrattazione all'interno di un contratto aziendale, in cui il padrone mi dice con chi io posso spendere, con quale privato io posso spendere una parte del mio salario per assicurarmi che so io un'assistenza sanitaria. Oppure, appunto, Renzi-Docet, il welfare oggi è la concessione paternalistica dall'alto. Qualcuno che... Quindi è fuori anche questo, tutta questa parte importantissima delle battaglie che sono state fatte storicamente. C'è stata sottratta, completamente sottratta. Ecco, la seconda questione, la seconda conseguenza secondo me importante, su cui va sempre e sempre la pena ragionare, è quella della divisione internazionale del lavoro. e la sua struttura oggi che rimane una struttura, direi, generalmente, genericamente schiavile. Potremmo dire che la struttura schiavile del lavoro ormai unisce il nord al sud del mondo. Quanta parte nel nord, è vero, del mondo è, in fondo, caratterizzato da precarietà, ricatto, diceva la compagna femminista, il mondo femminile può dire tantissimo, da questo punto di vista, sui ricatti a cui le donne sono sottoposte e non solo loro. In questo senso, credo che dovremmo ragionare molto bene sulla questione delle migrazioni. Il problema delle migrazioni non può essere posto da noi solo come un problema di accoglienza o di solidarietà. È un problema strutturale. È un problema strutturale. Come dire, da lì noi capiamo cos'è il sistema capitalistico. Vorrei, in questo momento mi viene in mente un filosofo di nome Hegel, che nella fenomenologia dello spirito ha delineato la figura del servo padrone, dicendo che la storia nasce quando un uomo trasforma un altro in un servo e lui ne diventa il padrone. Ma, e diceva Hegel, e in questo Marx l'ha ripreso ampiamente, la verità di questo rapporto sta nel servo. Se noi guardiamo il servo, quello che è ridotto in servitù, capiamo tutta la efferatezza di un sistema economico e sta lì la forza e la capacità di rovesciare i rapporti. È da lì che si muove la storia. E in questo senso io sono molto, molto, molto d'accordo su quello che oggi la grande battaglia femminista sta conducendo, che è proprio quello di unire le donne del nord e del sud del mondo, le occidentali e le migranti, come parte di uno stesso processo di sfruttamento. Io lo trovo davvero strategico intuire questo. e sono convinta che non possiamo più considerare i migranti semplicemente appunto come un problema di accoglienza. I migranti sono quella parte di umanità che ha solo le catene da spezzare. E in questo senso, appunto, diceva la compagna femminista di prima, occorre ricongiungere il fronte degli oppressi. E quindi, diceva Turigliatto in un articolo che ho molto apprezzato, parlava proprio di considerare i migranti come parte integrante della ricostruzione del movimento operario. Sono convinta che dobbiamo lavorare qui. Dobbiamo lavorare qui. È un ambito, secondo noi, fondamentale. Come, appunto? Noi abbiamo provato a lanciare l'idea del plan B. e abbiamo tentato, dopo aver partecipato alle grandi giornate di Madrid, di provare a pensare, di creare le condizioni anche in Italia per un piano B per l'Europa. E sono ancora più convinta della necessità di andare a costruire le condizioni per un piano B dopo aver partecipato. un paio di settimane fa, una settimana fa, non mi ricordo anche più, ormai il tempo non lo controllo più, due settimane fa. Ecco, ha l'iniziativa organizzata, con appoggi evidentemente internazionali, insomma, organizzata da Fassina, di un piano B asettico, senza popolo, senza masse, di un piano B nato, come dire, in un laboratorio chimico, in provetta, senza appunto alcuna dentellato con la realtà viva e concreta della gente. Ecco, io credo che se dobbiamo costruire un plan B deve essere senz'altro popolare. Non può prescindere da un movimento di massa. Non può che essere femminista. E su questo non c'è ombra di dubbio. Diceva la compagna prima, il movimento femminista ci sta dando un'indicazione straordinaria. È internazionalista. È contro la riduzione, è vero, al tema della sovranità nazionale, dei problemi che affliggono la gente. È internazionalista. E quindi congiunge, unisce i fronti delle lotte. E soprattutto è contro il sistema di potere che si instaura tra maschio e femmina, ma in genere, appunto, in una società capitalistica e patriarcale. Deve essere un piano, il piano B, deve essere anticapitalista. Chiarissimamente anticapitalista. Internazionalista. E quindi deve sapere unire, in qualche modo, i migranti. In questa maniera possiamo costruire un'alternativa che si fondi su una rottura capitalistica. E allora, senza illusioni, però, sulla riformabilità dell'Unione Europea. Nessuna illusione a questo riguardo. Nessuna illusione sulle derive socialdemocratiche o socialriformiste. La vicenda Tsipras è chiarissima. Credo che non possiamo più illuderci che sia possibile un'altra via di uscita da queste politiche imposte, è vero, dal Fondo Monetario, dalla Troica. La socialdemocrazia, anzi, come dire, a costo di dire una cosa eccessiva, ma direi la principale, la responsabile della smobilizzazione politica, culturale, ideologica nella quale ci troviamo oggi. La difficoltà nella quale ci troviamo oggi è imputabile, è vero, alle derive socialdemocratici. Ma anche nessuna illusione sulle classi dirigenti nazionali. Nessunissima illusione. Sono classi subalterne alle oligarchie europee e non saranno mai, mai, con il proletariato. Non illudiamoci che appunto la borghesia nazionale possa allearsi con le masse in un discorso, è vero, sovranista. Oggi siamo in presenza, semmai, di illusioni in questo senso, di illusioni sulla borghesia nazionale. Noi dobbiamo essere molto lucidi da questo punto di vista. Mantenere la barra dritta, i fondamentali sono, la contraddizione principale, rimane quella tra lavoro e capitale. E allora, batterci contro l'Unione Europea significa in primo luogo non dare nessuna tregua alle classi dirigenti nazionali, politico-economiche che siano. E in questo senso, essere internazionalisti vuol dire batterci qui, unendoci in Europa con le classi operaie.